Rem Electra linee di assemblaggio L'azienda produce innovazione tecnologica a servizio industriale cioè l'insieme dei sistemi meccanici, elettrici ed elettronici che permettono alle aziende di produrre la migliore qualità In questo modo il cliente può migliorare le proprie performance produttive utilizzando automazioni e collaudi di prodotto specifici per ogni esigenza Le idee rappresentano il meccanismo vincente per realizzare macchine che garantiscono l'aumento produttivo e qualitativo al minor costo assicurando risultati concreti nella filiera produttiva